Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che non avevo in nessun modo programmato perché non posso programmare anche gli infortuni dei nostri giocatori visto che Matuidi si è infortunato mi trovo quasi no costretto ma comunque volevo portarvi questo video per vedere un po' quello che penso io e vedere quello che poi pensate voi circa come sopperire alla mancanza di Matuidi perché è importante? Perché Matuidi per quanto riguarda questi 6-7 mesi di campionato e soprattutto per quanto riguarda il centrocampo è stato secondo me il giocatore più incisivo più che decisivo incisivo per quanto riguarda la gestione della partita di tutta la squadra è un centrocampista molto importante con grande esperienza con un bagaglio tecnico e tattico importante che ha sopperito un po' anche al calo fisico, ha un po' lo smandamento dei piani che è un po' discontinuo di per sé, ha avuto qualche problema fisico il che dire è che è tornato in forma recentemente degli infortuni di Morricchise e così via Matuidi c'è sempre stato in tutte le partite, ha riposato solo per riposare, nulla di che e questo è il primo infortunio, tra l'altro questa è una statistica record nel senso che il primo infortunio alla Juventus di Matuidi è anche tipo il secondo per quanto riguarda la carriera di Matuidi con il PSG è stato infortunato di fare una volta per un taglio, quindi neanche per infortuni muscolari arriva la Juventus che ha una storia recente di infortuni muscolari abbastanza abbondanti e anche lui si casca dentro. La tempistica con quale arriva questo infortunio è veramente un po' disastrosa nel senso che comunque abbiamo delle partite importanti l'entità dell'infortunio è chiaro per quanto riguarda la diagnosi e non ho ancora capito bene quando in realtà sarà lo stop secondo me un mesetto se lo fa, si parla in partite e si dice che Matuidi dovrebbe saltare 5 partite ora il calendario non ce l'ho sotto mano, non me lo ricordo, ma di queste 5 partite sicuramente c'è il Tottenham di Matuidi quindi già il fatto che manchi contro il Tottenham secondo me è già una perdita importante poi vediamo se ritorna per il ritorno contro il Tottenham, sempre non lo so, lo vedremo e lo capiremo intanto voglio vedere con voi come gestire queste 5 partite, nel caso fossero 5 spero non di più di modo da vedere cosa fare a centrocampo vi porto due soluzioni che sono quelle che girano ultimamente e sul quale si discute molto e vi dirò quella che secondo me è la mia preferita, la migliore secondo la mia modesta opinione allora, umile opinione forse da dire, ma comunque non importa detto questo, due soluzioni, una è mantenere il modulo sostituendo Matuidi con un altro giocatore che vedremo e una è cambiare e tornare al 4-2-3-1 per non mettere quel tipo di giocatore del 4-3-3 che poi vi dirò e tornare a una situazione in cui il centrocampo è quello che è però chiaramente si ritorna a un vecchio modulo che sembrava messo un po' da parte dopo questo 4-3-3 che ultimamente dà veramente molte garanzie chiaramente Allegri è uno che cambia molto e cambia anche in modo interessante a seconda dei giocatori che ha, a seconda del periodo, della forma e così via questo 4-3-3 col centrocampista in più dava equilibrio anche nel momento in cui magari sei un po' sottotono, hai comunque un centrocampo al 3 che dà solidità e sicurezza dietro ed è stato un po' quello che è il successo dello stesso Benatia, della difesa che ha subito in 14-15 presenze un gol solo e ne ha fatti altri tanti 7-0 recente, credo che sia proprio l'apice in massimo e da questo parliamo in modo più analitico circa le due alternative la prima alternativa è di mantenere il 4-3-3 che poi sia 4-3 fantasia 4-2-1 dipende da chi c'è mantenere questo sostituendo questo Matuidi Come sostituire Matuidi? Molti dicono a Marchisio, io non sono d'accordo Marchisio Mezzala, secondo me, è messo nel cassetto per l'età perché comunque il rendimento di Marchisio è un po' calato e anche la sua prestanza fisica Marchisio può subentrare nel momento in cui, come ha fatto contro Sassuolo lo metti in cabina di regia, avendo quasi un doppio regista ma Piani ce lo sposti un po' come Mezzala in questo caso Marchisio andrebbe dietro ma in questo caso non puoi fare questo discorso qua perché secondo me, togli Matuidi, dovresti mettere un giocatore, un cagnaccio diciamo così, e qua forse avete già capito di chi parlo un cagnaccio che va da un po' da difficicità e anche marcatura dal centrocampo, cosa che con Marchisio sia un po' meno pianice sicuramente ancora meno ecco qui che subentra quale cosa? Subentra Sturaro Sturaro che ultimamente ha un po' scavalcato le gerarchie complice il fatto che Marchisio è stato infortunato sempre ha ritornato tipo due partite, una partita in panchina ha giocato gli ultimi 55 minuti contro Sassuolo Bentancur è visto non tanto come vice Mezzala ma ultimamente sembrerebbe quasi come vice Pianic o come vice Chidira non in caso non a sinistra e l'ho visto, ho usato ultimamente col contagocce ecco che rimane solo Sturaro Sturaro che molti staranno un po' solucendo al naso perché chiaramente Sturaro sappiamo quali sono i limiti sappiamo qual è il suo ruolo di Gregario e qui andrebbe veramente a diventare titolare al posto di titolare infortunato ma titolare una partita importante contro la Fiorentina a Firenze che secondo me è difficile di per sé e ovviamente contro il Tottenham non so se verrà poi utilizzato contro il Tottenham magari contro la Fiorentina sì ma contro il Tottenham vediamo però Sturaro in effetti a mente fredda tralasciando le battute di ironia che si può fare intorno a questo giocatore è l'unico cagnaccio del centrocampo oltre a Matuidi Matuidi è un cagnaccio elegante siamo a livelli proprio differenti cioè tipo Matuidi qua e Sturaro qua sta di fatto che quello che si avvicina di più per quell'interpretazione fisica di proprio di stare dietro sulle caviglie ai giocatori Sturaro è quello che si avvicina di più quindi secondo me è una soluzione che vedo anche perché come detto prima ha scavalcato un po' di gerarchie complici di infortuni e così via ed è ben visto soprattutto ad Allegri da Mezzala fa bene Sturaro i suoi limiti tecnici si vedono sempre ma un po' meno da Mezzala perché da Mezzala ha fatto le partite migliori della sua carriera da Juventus e quindi chiaramente mi pare anche giusto in quel caso di confermarlo solo in questo caso e non da esterno come nel 4-3-1 che lì veramente metteva in evidenza tutti i suoi limiti ecco quindi la soluzione principale è ok teniamo un modulo che ci ha permesso di arrivare fin qui in modo soddisfacente le ultime 10-15 partite teniamo questo modulo mettiamo anche uno Sturaro che magari non è i migliori giocatori però diamo un po' di equilibrio di equilibrio anche mentale a questa squadra rodata in questo modo e ci mettiamo Sturaro la seconda alternativa è il 4-3-1 cioè torno a una cosa precedente che non dava più tutte le certezze del caso perché? perché Mandzukic non è informissima come lo scorso anno e Mandzukic era il modulo quel modulo con Mandzukic in forma aveva senso senza Mandzukic in forma non ha tanto senso perché poi chiedere piani se c'è il problema del filo di centro campo che non sempre dà queste garanzie scorso anno ha funzionato perché tutti funzionavano molto bene questo anno è molto diverso c'è a dire infatti che col 4-3-1 il giocatore migliore da mettere dietro la punta di Guain è Di Bala Di Bala che tornerà da un infortunio non credo per il Tottenham quindi è un problema comunque che ci portiamo avanti e comunque dovresti tornare avresti anche un giocatore non al top perché appena ha tornato un infortunio con un Mandzukicic ancora diventare un po' con le gambe che ci tirano bene diciamo che il 4-3-1 secondo me la soluzione è peggiore e preferisco di gran lunga metterci uno Sturaro in quella posizione là e magari tanti diranno non è ma Sturaro è però preferisco Sturaro in quel caso in quella situazione che passare un 4-3-1 con poche certezze per quanto riguarda la condizione dei giocatori chiave di quel modulo quindi ricapitolando come affronterà Allegri la cosa questo non lo sappiamo lo vedremo quello che mi auguro che lo affronti continuando sulla linea che ha intrapreso qualche settimana fa o due mesi fa continuando con questa linea con i giocatori che ha poi potrebbe fare anche delle situazioni in cui mette Marchisio a Samoa magari come Mezzala o Bentancur e facciano girare i giocatori magari mettendo occhi di la sinistra se si trova meglio però io spero che rimanga su quest'idea di usare il 4-3-3 o il 4-3-Fantasia nel senso che se Bernardeschi du lascosto Manzuki ci giochi con più o meno gli esterni di balla fai 4-3-2-1 poi diciamo che sono varianti che lasciano tempo che trovano e che sono così ben marcate e da questo quindi questa è la mia opinione continuare su questa strada a quei giocatori che si hanno sperando che Matuidi recuperi al più presto perché è un giocatore siccome è fondamentale che se manca lui si sente più che se manca un altro paradossalmente pur essendo magari Matuidi non il più forte per valore rispetto ai piani ecco così tanto per dire uno la via del 4-3-1 nulla contempo sinceramente sarebbe siccome un passo indietro poi magari funziona però bisogna anche rischiare vedere quando rischiarla a seconda delle partite contando che per le prossime due sono difficili cioè Fiorentina a Firenze è difficile a prescindere dal fatto che la Fiorentina non sia forte come noi ma contro il Tottenham signori è la difficoltà più alta quindi ragazzi il video finisce qui questa è la mia idea ci vediamo dopo per questo video che lo carico prima spero sì ci vediamo dopo per la questione del Marchese numero 13 ci vediamo domani che è mercoledì per lo spacchettamento attenzionati che ce ne saranno delle belle e ci vediamo con il continuo della rubrica nei prossimi giorni da giovedì in poi con quella che è la rubrica su giocatori passati in mercato presente chi non ha seguito i primi due video invito appunto a farlo perché è molto interessante mi ha divertito molto comporla forza Juve come sempre ciao paura ciao ciao Grazie a tutti.